Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, siamo qui ancora a Chievoti, oggi torniamo a casa per fortuna, niente, vi voglio fare di nuovo gli auguri a tutti quanti, ma vi voglio informare che presto farò un nuovo video, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a vedere i video, vi ripeto, questi video li faccio per farvi divertire, per farvi vedere dove i posti, i luoghi dove sono andato e andrò, niente, che vi voglio dire, vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, vi faccio di nuovo gli auguri e vi invito a seguirmi a tutti i video che faccio e che farò, niente, vi do ancora gli auguri in questo 2019, non sarà come il 2018, ma meglio, a vuoto della nostra famiglia, da paghi foto, non dimenticatevi.